Sta cosa delle foto artistiche a me suona sempre come una sorta di giustificazione. Se una donna, a mio parere chiaramente, è sufficientemente libera mentalmente per fare questo mestiere, perché questa smania di condire la situazione sempre a tutti i costi chiamando in causa l'arte? Anche se c'è arte o non c'è, voglio dire la bellezza, la nobiltà di un bel corpo, ci sono comunque. Mi sembra un velo di ipocrisia, lo faccio però non è così. Lo faccio ma fa molto Kandinsky. Proprio molto Kandinsky proprio. Qual è il problema? Il problema in realtà non sussiste, è un tabù nostro, è un alibi, è un deterrente di cui hanno bisogno per giustificare il fatto che si mostrano per pura vanità, perché l'arte non c'entra un cavolo. Poi è ovvio che ci sono le foto in nudo artistico, Kate Moss ha posato varie volte per il calendario Pirelli. Sì sì no, spogliati se ritieni. No scusate, fa caldo però io ho due spalle da notatrice che vorrei far evitare sinceramente di mostrare così pubblicamente. Kate Moss ha posato varie volte nuda, peraltro anche riproducendo opere d'arte, chiaramente non penso per scelta sola ma per scelta dei grandi fotografi, nuda, meravigliosa, stupenda ed in effetti quella è una foto di nudo artistico. L'arte ce l'ha messa il fotografo, non ce la mette la donna, a meno che, a meno che la modella non sia preparata al punto da dire ah imito senza che nessuno me l'abbia chiesta o la posa di un'opera del Canova. No, la Sagrada Famiglia. La Sagrada Famiglia, esattamente, i metto lì, non so, insomma, comunque no, è una giustificazione ridico. Io quando ho fatto delle foto per Playboy non mica ho fatto delle foto d'arte, ho fatto delle foto belle, ben fatte, tecnicamente impeccabili, ma l'ho fatto per A pagarmi l'affitto, B per vanità, cioè finire sullo stesso giornale dove 50 anni prima c'è stata Marilyn Monroe, a seguire Shannon Stone, a seguire bellezze nostrane come può essere stata la Zanicchi nella prima edizione. Nei momenti d'oro. Nei momenti d'oro, cioè, un po' di... il tuo ego si ingrassa, quantomeno. Passiamo, invece, alle tue letture preferite che mi hanno francamente incantata. Per prima cosa ho visto che tu annoveri l'idiota di Dostoevsky, vabbè, chiaramente non è la sede per aprire un dibattito, però merita per forza una menzione il fatto che tu abbia scelto quel libro. E poi ci sono due mostri sacri, quali Benny e Pennac, che in qualche modo poi sono... molti sostengono siano il corrispettivo l'uno dell'altro, eccetera, eccetera. E chiaramente, avendo avuto modo di chiacchierare un pochino con te, Pennac, nella fattispecie, ha tirato la mia attenzione, perché, vabbè, come hai risaputo, Pennac ha inventato questa saga geniale a tratti surreale che vede protagonista il buon Benjamin Malau-sen e la sua famiglia. Ed è questo che mi piace molto, perché la famiglia di Benjamin è tutt'altro che una famiglia canonica. No, lui è proprio all'opposto. Lui ha una madre in comune con tutti i suoi fratelli, ma poi tutti i suoi fratelli sono figli di padri diversi. E nonostante questo c'è un amore, un senso di protezione. Io ho come questa impressione che tu in qualche modo senti vicino al tuo personale percorso familiare, in qualche modo, tutto ciò. Ho notato, infatti, che quando parli della tua famiglia usi questa leggerezza fantastica raccontando in punta di ironia quello che è stato il tuo di percorso. Beh, appendo una parenti di SuperNac, perché la sua non è una famiglia canonica? È una famiglia che si ama e sinceramente oggi come oggi trovare una famiglia unita e che si ami personalmente non lo trovo così facile. Poi probabilmente se ci fosse un pubblico davanti a me in questo momento si alzerebbero mille mani e direbbero noi siamo una famiglia felice, unita, impeccabile, tutti i figli del suo padre e tutti i figli della stessa madre. Ebbene, ottimo, d'accordo, ma tra le mie conoscenze personali non c'è una sola famiglia che ormai non sia divorziata in procinto di divorzio, in procinto di tradimento, in procinto di qualunque cosa. Magari non è quella di Melusen, non è la famiglia canonica nel senso composta da un paterfamilia, da una madre e da uno stuolo di adorabili fratellini e sorellini perfettamente impeccabili. Però comunque è una famiglia unita e che si ama, tanto di cappello, cioè io ormai urlo al miracolo per quello. E' come trovare un pesce nell'ambro, probabilmente. Vedo un salmone che risale il fiume e dico, wow, al miracolo! Allora, amico, io ora ti leggo una frase e voglio assolutamente vedere la tua espressione facciale dopo che l'avrò letta. Omosessualità è il matrimonio tra due donne, è un dramma grave, è una cosa riprovevole. Io non convengo, io non convengo con questa frase, ma non aprirò un dibattito contro chi l'ha detta. Se qualcuno ritiene che sia una cosa reprovevole non vada al matrimonio. Ottimo. Tu hai asserito che stimi Tinto Brass e il Cardinal Tonini. Oh sì! Ecco, la frase in questione era detta dal Cardinal Tonini. Tu dici che li stimi fondamentalmente perché ti piace il fatto che loro siano persone convinte di ciò che dicono. Quindi, saper dubitare delle proprie certezze in virtù di nuove nozioni acquisite, non lo reputi sinonimo di intelligenza? Ma certo che è sinonimo di intelligenza, ma Tinto Brass, ad esempio, per quanto una persona possa non condividere il suo modo di fare cinema. No, no, a me mi sta proprio simpatico, Tinto Brass, non mi riferivo a lui. A parte che umanamente è una persona anche simpatica, che ha avuto la possibilità di riconoscere, gentile ed educato. Ha conosciuto il tuo culo, lui immagino l'abbia voluto. Ha detto che avrà una gran carriera grazie al mio sedere, no? C'è chi legge i fondi del caffè e lui legge le curve del fondo schiena. No, ma è bellissima, è stupenda. Sì, infatti, sapevo di questa sua filosofia. Lui ti dice che vita avrai guardando fondamentalmente il tuo fondo schiena. È vero, evidentemente, non so, sei veramente, c'è chi va a legge i fondi del caffè e guarda il volo dei passeri e lui guarderà al posto della mano, al fondo schiena. Non so cosa guardi, ma va bene. Sei convinto? Quindi ciò che conta fondamentalmente, tu dici, adesso a prescindere che Tonini possa aver detto questa frase, che io chiaramente non condivido minimamente il suo jacuzzi contro l'omosessualità, però tu dici, non è che conta per forza il contenuto, ma spesso e volentieri conta la personalità che lo esprime e la forza con la quale difende le proprie certezze. Sì, 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 ma anche perché questa frase, questa mia frase, che peraltro mi ha portato una quantità di insulti imbarazzante, sì, sì, questo paragone che ho fatto tra Cardinal Tonini e Tinto Brass, cioè, il punto è, Tinto Brass ha una sua visione dell'arte molto precisa, così come io posso avere una visione di come mi piace la pasta a sciapa o al dente o con molto sale. Lui ha una sua visione dell'arte molto chiara in testa, che si è evoluta col tempo, ma quella è la sua strada. Il Cardinal Tonini ha una sua visione di molte cose, tale quale l'arte, la famiglia, l'etica, la morale, eccetera, eccetera, e ha questa sua visione molto netta, molto netta, ok? Mi è stato chiesto, questa domanda è nata da chi mi avesse o meno colpito tra gli ospiti che noi avevamo avuto durante il programma. In quel momento, e hanno passate quattro puntate, cinque puntate, la domanda me la rifacessero adesso, probabilmente citerei qualcun altro, citerei Terry Gilliam, probabilmente, mi è piaciuto molto, citerei Custurizza, citerei, citerei comunque tutte persone che hanno in comune una visione dell'arte netta e precisa. Diverse, per carità, diverse, ma precisa e abbastanza coerente. Ok, quindi la questione non è una questione di contenuti, bensì di approccio e di integrità.